Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove in direzione Firenze si segnalano 4 km di coda per un veicolo fermo in avaria tra Ginestra Fiorentina e Scandicci. In direzione mare rallentamenti per lavori tra la diramazione per Pisa e Vicarello. Stanotte in orario 22.06 chiuso il tratto tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione mare per lavori. In A1 in direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia ed è chiuso per lavori il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. In A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata verso Genova e in uscita provenendo da Genova. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!